Musica Buongiorno, bentrovati ad ora a TG, edizione che apriamo con la cronaca, operazione antiterrorismo a Catania. La polizia ha arrestato un giovane 32enne convertito all'islamismo, si fingeva egiziano sui social per fare propaganda all'ISIS e arruolare i soldati. Era già in carcere per altri reati. Sentiamo tutti i particolari. Il servizio è di Daniela Cantarella. Inneggiava l'ISIS alla CIAD su WhatsApp fingendosi egiziano sotto lo pseudonimo Ahmed, ma nella realtà il suo nome è Giuseppe Dignoti, 32enne, pregiudicato di Catania. Al criminale in carcere dal 2017 per reati di violenza e sequestro di persona nei confronti dell'ex convivente è stata notificata dalla Polizia di Stato di Catania un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. È accusato di apologia del delitto di terrorismo mediante strumenti telematici e quanto emerso dalle complesse indagini svolte dalla sezione antiterrorismo internazionale della DIGOS della Costura di Catania e coordinate dalla Direzione Centrale Polizia di Prevenzione in collaborazione con la Polizia Postale del Capologo Etneo. Intercettazioni telefoniche, servizi di osservazione, pedinamento e numerose testimonianze. Questi gli elementi che hanno incastrato l'uomo che sin dal 2016 aveva iniziato a svolgere un'intensa attività di proselitismo in vari gruppi sulla piattaforma di WhatsApp sotto la falsa identità egiziana di Ahmed inviava ai membri del gruppo numerosi video ed immagini ritrenti, gesta delle milizie dell'ISIS, scene cruente di uccisioni e decapitazioni, canti che inneggiavano all'ISIS e alla Jihad fornendo una visione estremistica e radicalizzata della fede religiosa islamica anche allo scopo di far osservare rigorosamente alle donne le regole della religione musulmana. Nei gruppi in cui scriveva su WhatsApp invitava ad uccidere gli infedeli e a conquistare l'Occidente pur suscitando la disapprovazione da parte di molti altri partecipanti. In alcuni tratti delle intercettazioni telefoniche svolte dagli investigatori, Dignoti inviava più volte gli inni in favore dell'ISIS incitando a prendere un fucile o un coltello e andare ad ammazzare qualcuno. Facciamo pulizia a Milano, in Calabria scriveva manifestando odio verso qualsiasi cosa rappresentasse l'Occidente. La sua conversione religiosa all'islamismo era avvenuta nel 2011 dopo la conoscenza del cittadino marocchino Sara Aziz, allora 31enne, rimpatriato poi nel 2017 dall'Italia perché trovato in postetto di un vessillo dell'ISIS. Aziz e Dignoti si erano conosciuti all'interno del carcere di Caltagirone dove il 32enne stava scontando una pena di 5 anni a seguito del reato di violenza sessuale nei confronti dell'ex compagna e grazie alla sua denuncia che sono partite le indagini. Figlia della convivente aveva subito delle minacce telefoniche preoccupate dalla difficoltà, quasi dalla impossibilità di interloquire con la madre che in un momento appunto di libertà era riuscita durante la convivenza con il Dignoti suo a Guzzino ad inviare la foto del proprio braccio con dei lividi. Pertanto da lì la telefonata con il Dignoti, le minacce da parte del Dignoti che si professa appartenente all'ISIS, le minacce di morte e da lì quindi scatta la denuncia da parte della figlia presso un ufficio di polizia della Lombardia che ovviamente porta alle indagini che verranno poi eseguite nel territorio catanese. E quindi far svolgere tutti gli opportuni accertamenti da parte delle 45 di IGUS sono state interessate. È stato determinante, il Dignoti già aveva manifestato, aveva rappresentato, aveva cancellato i dati di interesse, il certosino sul lavoro svolto di recupero dei file cancellati ha confermato le ipotesi investigative. file audio, video, in particolare quello che riguardava Giulia Sergio, la prima italiana che si è addestrata e che è andata a combattere in Siria nel 2015, ha ulteriormente confermato oltre chiaramente al recupero di tutti i contatti che è stato utile al lavoro della DIGOS per ricostruire l'attività svolta dal Dignoti. E ancora per la cronaca, un impiegato di banca arrotondava spacciando Ashish, sono stati i carabinieri ad arrestare un giovane di 35 anni, una breve indagine gli accondotti nell'abitazione di via Luigi Sturzo e successivamente in una casa nelle campagne di Belpasso nel Catanese. Sono stati rinvenuti e sequestrati sette panetti di Ashish del peso complessivo di circa 350 grammi occultati nella custodia di una chitarra e dentro alcuni mobili, un bilancino elettronico di precisione e diverso materiale utilizzato comunemente dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente. Votiamo pagina ancora all'Etna a richiamare l'attenzione. Al centro della cronaca nuova nube di cenere dai crateri sommitali, in particolare dal cratere di nord-est, ma i livelli del tremore sismico sono attualmente bassi, come confermano dagli NGV. Pioggia di sabbia vulcanica da questa mattina sui paesi pedemontani del versante orientale dell'Etna. Il fenomeno si origina dai crateri sommitali del vulcano attivo più alto d'Europa, un'attività confinata all'interno e per questo definita intracraterica, che non avrebbe alcun collegamento diretto con i terremoti sui fianchi dell'Etna. Come spiegano dalla sala operativa dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania, già da giorni il cratere di nord-est, il più alto, quota 3.326 metri dei crateri sommitali dell'Etna, emette cenere di intermittenza. A ciò si aggiunge un'attività esplosiva dalla Bocca Nuova, il più grande dei crateri sommitali dell'Etna, con emissioni sporadiche anche da lavoragine. Le emissioni deboli della Bocca Nuova non si erano mai arrestate dallo scorso mese di luglio, mentre il fenomeno in corso vede un intensificarsi. dell'attività del cratere di nord-est. Visibile stamani un'intensa nube che, spinta dai venti, ha veicolato in tarda mattinata la sabbia nera verso i centri abitati di Zafferana, Milo, Giarre e Mascali, con i conseguenti disagi. Dalla fascia ionica sono giunte le prime segnalazioni sulla pioggia vulcanica. Un'attività che, seppur non essendo direttamente collegata, chiariscono gli esperti vulcanologi dell'Osservatorio Catanese con i terremoti e gli eventi dello scorso 24 dicembre, trova nell'attività dell'Etna la stessa causa comune. E dai movimenti del vulcano che derivano tutti gli eventi osservati nel periodo, compreso quello di oggi. Al momento nessuna allarme. L'attività sismica è piuttosto bassa e sui livelli normali, confermano dalla sala operativa, restalta l'attenzione dell'Istituto di Vulcanologia guidato dal direttore Eugenio Privitera sull'evolversi dei fenomeni. Stamane nuovi sopralluoghi sul vulcano. E ancora per la cronaca, si cerca senza sosta domenico, lo giudice subcatanese ad Agnone e Bagni. L'uomo ieri pomeriggio intorno alle 18 si era immerso nelle acque del Siracusano per una battuta di pesca. Poche ore dopo è stato lanciato l'allarme dal fratello e dagli amici. Già in prima serata si sono attivate le ricerche da parte della Capitaneria di Porto. Attualmente è in corso l'intervento dei Vigili del Fuoco, impegnati insieme a due motovedette della Guardia Costiera di Augusta. Le ricerche sono gestite dalla Capitaneria di Augusta. Si stanno concentrando su un ampio spazio di mare, compreso tra Agnone, Bagni e Brucoli. Il giovane sarebbe un dipendente di un'azienda pubblica catanese. Viabilità post-terremoto e ricadute sulle attività commerciali. A Santa Maria la Stella tanti commercianti rischiano di chiudere i battenti a causa della chiusura di Via Floridia. Sentiamo Gwenda Garozzo. Si lavora a Singhiozzo, la clientela abituale si è ridotta. Il calo delle vendite è impressionante se si va avanti. Così molti saranno costretti a chiudere i battenti. I commercianti in Via Santa Maria la Stella soffrono una pesantissima crisi da quando Via Floridia, ricadente sul territorio di Ecireale, seriamente danneggiata dal sisma di Santo Stefano, è chiusa al transito. A sbarrare il passo i blocchi in cemento posizionati in sostituzione di quelli in plastica, perché quest'ultimi venivano sistematicamente scansati dagli automobilisti che, non curanti del pericolo, percorrevano comunque, fino a qualche giorno fa, questa strada importante di collegamento. Da un lato il problema sicurezza risolto, dall'altro il problema crisi dei commercianti che si è venuto a creare. Nessuno, dicono, ha dato dei tempi certi. Perché chi conosce la strada magari ci arriva qua, ma chi non conosce la strada vedo la telefonata dei clienti e quant'altro che gente che non mi viene più perché gente di fuori magari viene e non ti trova o trovo Via Tropea che è diventata invivibile e quant'altro io ci abito in Via Tropea e lo vedo. Perché Via Tropea è l'unico percorso, diciamo, seguibile per poter raggiungere la Via Santa Maria e la Stella, però molti evitano anche quella. Infatti, io per esempio, ieri dovevo andare a Mister Bianco, ieri mattina, erano le sette e mezzo, arriva a metà Via Tropea, già c'era tutta la strada piena, significa che per arrivare in un'autostrada, poi con quella famosa rotatoria bellissima che abbiamo, al Torchio, per arrivare in un'autostrada ci voleva un'ora. Siamo otto tutti quanti, con me e mia moglie e quant'altro. Quindi, insomma, che si sblocchi presto questa situazione. Speriamo bene, che la giustino questa strada, va bene che è pericolosa, però prendono provvedimenti, perché questa piega in D'Aggallo, a Cicatena è la stessa cosa. Con il passante non si lavora più, quindi il calo è netto, è evidente. Io considero più del 60%, cioè gli incassi sono minimi giornalieri e non so continuando così se si riesce ad andare avanti, anche perché le cose, le merci si devono continuare a pagare, le scadenze, l'affitto, le varie cose che normalmente un'attività commerciale deve portare avanti. Non si fa altro che chiudere, chiudere per la sicurezza delle persone. Poi gli altri si chiudono per altri motivi, perché non hanno più lavoro, quello non interessa più a nessuno. In termini percentuali c'è stato un evidente calo? Guarda, noi dieci giorni veramente, anche se avesse tenuto il negozio chiuso, non avrei perso nulla. Uno lo fa per non disabituare che poco di cliente che ancora viene. Nella duplice veste di commerciante e consigliere comunale di AC Sant'Antonio, Michele Quattrocchi, che stamani spiega. Mi è stato detto che non è di competenza di Ace Reale, come pensavano tutti se la prendevano con il comune di Ace Reale, ma si sono suddivisi i territori e questa strada è di competenza dalla provincia. La provincia mi dice che già sta lavorando su un progetto e una volta provando il progetto va in gara, però i tempi ancora sono incerti. Ci sono esercizi commerciali che minacciano la chiusura? No, minacciano. Su Pia Floridi abbiamo un distributore di benzina che a fine mese purtroppo deve chiudere perché non può passare nessuno. E poi i ristoranti che hanno difficoltà perché anche se vengono persone di fuori li devono aspettare all'ingresso dell'autostrada perché si perdono strade e strade e quindi stanno subendo dei grossi problemi. E proseguiamo ancora raccontando storie legate al terremoto di Santo Stefano come quella che ci porta a Guardia Mangano, frazione di Ace Reale. Una coppia sfrattata e terremotata ci racconta la sua condizione. I coniugi dovranno lasciare l'abitazione. Sono cadute nel vuoto tutte le richieste d'aiuto rivolte alle istituzioni. Sentiamo Salvo Cutuli. Strattati per decisione del giudice e terremotati. Coppia di Guardia Mangano, frazione a nord di Ace Reale, entro martedì prossimo dovrà lasciare l'abitazione peraltro dichiarata parzialmente inagibile dai vigili del fuoco. Caduti nel vuoto anche gli appelli rivolti alle istituzioni locali di trovare loro una sistemazione. Graziano e Sonia ci hanno aperto le porte di casa e mostrato l'interno dell'immobile, costrette a vivere con parte della cucina inagibile e imbaricabile, nastrata dai pompieri a causa del cedimento di questa vasta porzione dell'intonico dal tetto. All'anno alla beffa perché i coniugi Boranno sono destinatari di un ordine esecutivo di sfratto e dentro martedì prossimo dovranno lasciare l'edificio. Inutili anche gli appelli ai competenti uffici comunali per una collocazione provvisoria in attesa di trovare un alloggio in affitto. trattandosi di terremotati avrebbero diritto alle tutele previste ma hanno trovato tutte le porte chiuse. Umanità negata e si fa concreto il pericolo di andare a vivere in auto con cani e gatti a seguito che la coppia custodisce da tempo. È disperato e stanco di subire quelle che bolla come ingiustizie Graziano Bonanno che si è rivolto alla nostra emittente speranzoso di fare breccia nelle istituzioni. A fronte di tutta questa situazione che poc'anzi abbiamo discusso mi sono regato al servizio sociale di Acireale anzi preventivamente dal sindaco per essere sincero il quale mi dice che lui essendo una figura politica non si può occupare di queste situazioni non è nella sua funzione e mi ha rimandato al servizio sociale. Il servizio sociale di contro io ho fatto le mie rimostranze ho portato le mie carte ho fatto vedere le condizioni in cui siamo mi ha risposto che non essendoci stato precedentemente un percorso non erano nelle condizioni di potermi aiutare e io a quel punto ho chiesto almeno, quantomeno che mi facessero avere più tempo dagli organi giudiziari in qualche maniera insomma io non è che sono so quali sono le funzioni di un servizio sociale posso immaginare che magari di autorità possono dire guardi facciamoli stare qualche giorno ancora in più il tempo si trovano in una casa e vanno via mentre invece mi ha allargato le braccia cioè non possiamo intervenire in merito a una sentenza di un giudice e io lo comprendo può essere anche c'è anche un giudizio di un ingegnere del Vigilio Fuo che dice che questa casa è inagibile sì, sì cioè lei comunque deve andare via sì, anche perché come vedete voglio dire è stata pure una strada la parte che è pericolante quindi noi dobbiamo comunque andare via quando io ho chiaramente mi sono un attimino arrabbiato voglio dire perché quando mi sento chiudere le porte da tutte insomma lei capisce bene che la condizione non è delle migliori piccatamente ho risposto ascoltate facciamo una cosa non appena questi signori vengono visto che io non posso contrastare lo sgombero dell'immobile perché devo rispettare la sentenza piglierò la mia macchina la metto qui sotto al parcheggio che è bello grande spazioso ci sono le telecamere è anche sicuro perché di fronte c'è il comando dei vigili urbani e fin tanto che non trovo un alloggio idoneo dormirò qui sotto e a quel punto l'impiegata insomma l'assistente sociale mi ha allargato le braccia come dire faccia come crede noi questo è e questo possiamo fare le muffe presenti in casa conseguenza delle visibili infiltrazioni di acqua piovana hanno compromesso la salute della signora Sonia alla quale i medici hanno diagnosticato problemi respiratori terremotati sfrattati e dimenticati dagli enti pubblici competenti mi è venuta questa patologia sicuramente per la muffa nera anche perché io non avevo nulla prima di venire a stare in questa casa e la muffa si è sviluppata durante l'arco del tempo noi avevamo chiesto comunque di essere sistemata ma non è stata sistemata e questa cosa si è talmente tanto aggravata che probabilmente io avrò problemi di salute per tutta la vita perché non è una cosa da cui si guarisce ma come si fa a vivere in una casa dichiarata inagibile dove lei non può accedere in cucina e si deve adattare con un fornellino e lavare tutto nel bagno ci arrangiamo come possiamo la maggior parte del tempo la passiamo nell'altra stanza nella stanzetta dove comunque lì si può vivere qui abbiamo deciso di fare cucinare e il tutto lì di lavare i piatti in bagno e finché non troviamo un'altra soluzione questa è la situazione ed intanto l'hotel Maugeri di Acireale ospita circa 140 sfollati ma adesso si avvicina il carnevale quest'anno a circuito chiuso a pagamento e la struttura ricettiva si trova proprio all'interno del circuito al centro di Acireale dunque si porrà il problema degli accessi anche per queste famiglie sentiamo Il 17 febbraio prossimo prenderà il via più bel carnevale di Sicilia di Acireale che anche il carnevale dei terremotati tra loro 140 sfollati per inagibilità totale o parziale delle abitazioni accesi squassati dal sisma e ospitati all'hotel Maugeri ubicato in pieno centro storico cittadino e all'interno del circuito a pagamento per il quale si profita adesso il rischio di dover pagare il ticket per rientrare in albergo L'emergenza terremoto è tutt'altro che è conclusa e gli albergatori non hanno ricevuto alcuna comunicazione ufficiale in merito ad un'eventuale sospensione della convenzione che copre un periodo di sei mesi rinnovabili infondate dunque le voci secondo le quali i terremotati dovranno lasciare le strutture ricettive entro il 31 gennaio per gli sfollati c'è poco da festeggiare e il solo pensiero comprensibilmente è rivolto alla ricostruzione post-sisma al momento non ci sono risposte sui fondi promessi dallo Stato centrale né chiarimenti su quando verrà erogato il contributo di autonoma sistemazione l'albergo come casa è la speranza che non si trasformi in un incubo in occasione dell'imminente manifestazione carnaceresca a pagamento e con circuito chiuso che di fatto priverebbe i 140 evacuati del Maugeri il sacrosanto diritto di accesso nella struttura ricettiva siamo ancora in piena emergenza per cui continuiamo ancora a dare i nostri servizi così come la convenzione e fino a quando ce ne sarà bisogno fino a quando ce ne sarà bisogno non solamente i sei mesi della convenzione ma fino a quando ce ne sarà bisogno su questo aspetto voi ricevete delle disposizioni avete siglato un accordo esattamente c'è una convenzione che abbiamo siglato il 26 il giorno del terremoto di Santo Stefano ed è quella là e ancora continua l'emergenza e quindi stiamo continuando ad ospitare regolarmente gli sfollati sono 140 i terremotati che sono qui da lei sì circa forse qualcosina in più 145 comunque alcuni già cominciano ad andarsene perché hanno trovato la sistemazione ma sono ancora un gran numero di persone oltre 140 lì siamo insomma su quella linea e spettacolare incidente questa mattina a Giarre poco dopo le 7 una lancia musa che percorreva via Santissima del Carmelo nel superare l'incrocio di Corso Italia per evitare l'impatto con un'altra auto guidata da un trentenne ha compiuto una manovra improvvisa e l'auto ormai fuori controllo si è ribaltata a pochi metri dalla fontanella della villetta San Francesco d'Assisi in via Bellini sul posto sono intervenuti i carabinieri una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di riposto e i sanitari del 118 che hanno immediatamente soccorso il conducente della lancia musa un uomo di circa 60 anni è stato condotto al pronto soccorso dell'ospedale di Acireale le sue condizioni fortunatamente non sono gravi per precauzione è stato accompagnato in ospedale anche il conducente dell'altra auto una Mercedes come dicevamo prima un giovane di 30 anni torniamo a parlare di lavoro e divertenze gli ex laboratori Mirmex sono tornati a manifestare questa mattina sotto il palazzo dell'Esa a Catania sede della regione siciliana etnea alcuni di loro si sono anche legati per protesta contro il silenzio delle istituzioni vediamo legati con una corda sotto il palazzo Oese a Catania gli ex lavoratori Mirmex tornano a protestare contro il silenzio delle istituzioni e l'assenza totale di ammortizzatori sociali i 30 ex dipendenti annunciano un presidio a tempo indeterminato alternandosi a gruppi di 10 sotto la sede della regione siciliana a Catania attendono ancora disperatamente una soluzione alla loro disoccupazione i lavoratori dell'ex laboratorio di ricerca tossicologica catanese ceduto dalla Pfizer alla società milanese Mirmex nell'estate di oltre 7 anni fa l'operazione fra le due società si era conclusa a solo costo di 1 euro i lavoratori sono stati tutti licenziati nel 2016 nonostante le lotte iniziate agli indomani dell'acquisizione da allora il laboratorio ha ufficialmente chiuso i battenti in attesa che si facesse avanti un compratore i lavoratori della Mirmex oggi sono qui si sono legati proprio per dimostrare come le nostre istituzioni non tengono minimamente conto di quello che sono le esigenze dei lavoratori ma anche del territorio della nostra provincia e della nostra regione noi da anni seguiamo la vertenza Mirmex ma purtroppo dobbiamo dire che non abbiamo mai avuto alcun riscontro concreto i lavoratori hanno deciso di fare questa manifestazione permanente perché non soltanto vogliamo un incontro col presidente Musumeci ma vogliamo delle risposte definitive per concludere questa vertenza e trovare una soluzione per i lavoratori che ormai da mesi sono privi di qualunque fonte di reddito e per trovare una soluzione che salvi questo importantissimo centro di eccellenza che è stato il laboratorio ex white leather l'ex Pfizer e poi passato alla Mirmex di Gianluca Calvi che sostanzialmente ha fatto il lavoro a sporco per Pfizer chiudendolo in maniera ignobile e lasciando per strada tutti i lavoratori e togliendo appunto al nostro territorio questo centro di eccellenza che aveva una valenza internazionale europea e non soltanto europea quale potrebbe essere la soluzione cosa chiedete noi chiediamo che venga trovata una soluzione abbiamo provato qualunque cosa la regione ci dice che ci sono dei progetti da parte loro ma non arriva nessun riscontro concreto noi chiediamo al presidente Musumeci che se realmente ci sia questo progetto per trovare una soluzione per i lavoratori che venga messo in pratica il prima possibile perché non è più possibile aspettare dopo anni di pazienza i lavoratori adesso non hanno più pazienza giustamente comprensibilissimo e questo è il risultato del malgoverno delle nostre istituzioni Lavoro ed integrazione 15 stranieri ospiti della comunità di Sant'Egidio saranno inseriti nell'ambito di un progetto in collaborazione con la Dasti la ditta che gestisce il servizio rifiuti in città il progetto è stato illustrato questa mattina è un'opportunità che racconta una città che si trova in un momento di difficoltà ma che nel dialogo crea delle soluzioni a problemi molto concreti il problema concreto è la povertà una povertà di una città che vede ingrossare le ville delle persone che vivono per strada degli anziani i soli ma di un paese che va avanti così ricordo solo ieri la chiusura di uno o del secondo cara più grande d'Italia un cara che funzionava anche abbastanza e bene è conseguenziale riversarsi in strada di tanta gente allora con Darsi si è pensato questo un percorso che dà un'opportunità lavorativa anche se in breve periodo sotto forma di tirocino e quindi di qualifica di alcuni soggetti che viceversa sarebbero senza lavoro e da qui provare a capire alla fine di questo tirocino come proseguire nella stessa ditta o in altri luoghi con una competenza in più è stato accolto da diverse persone italiane straniere giovani anziani che insieme si sono preoccupati di dare una risposta al decoro urbano della città attraverso la pulizia i 15 giovani di età compresa tra i 20 e i 38 anni provengono da Nigeria Gambia Sierra Leone Mali tra loro anche quattro senza tetto catanesi che hanno già iniziato il tirocino formativo per operatori ecologici i nuovi lavoratori si aggiungono ai 15 Genzeripi da Dasti lo scorso novembre nel servizio di raccolta rifiuti su intermediazione del missionario Vincenziano Napoletano padre Sirica direttore della Locanda del Samaritano con cui il progetto è stato avviato il progetto degli Angeli dell'Ambiente è già al quarto mese perché abbiamo diciamo abbiamo deciso di dedicare questo progetto anche alle persone che vengono accolte dalla comunità di Sant'Egidio è stato un successo l'operazione fatta con padre Sirica della Locanda del Samaritano e spero che sia altrettanto valida questa con la comunità di Sant'Egidio che faranno per noi dei lavori diciamo a supporto del servizio e ho la coscienza a posto so di avere fatto tutto quello che era il mio potere fare per dare decoro a questa città e per fare lavorare serenamente i miei dipendenti ed impiegheranno 30 disoccupati cantieri di lavoro pronti a partire nella città di riposto si effettueranno interventi urgenti su alcune arterie adesso si attende soltanto il finanziamento della regione via strada 24 dal lungomare Ettore Pantano fino a via Marco Polo siamo nella frazione di Torre Archirafi e poi il lato ovest di via Pasquale Almerico su questi due tratti stradali a riposto si interverrà a breve probabilmente già in primavera quando partiranno due cantieri di lavoro i cui decreti di finanziamento da parte della regione siciliana sono attesi nell'arco di un mese e la cui approvazione dei progetti esecutivi da parte della giunta comunale è già avvenuta confermano stamani sindaco il suo vice nonché assessore ai lavori pubblici rispettivamente Enzo Caragliano e Rosario Caltabiano che è una cosa importante che ci permetterà di non solo iniziare questi lavori ma ci sono anche i cantieri quelli dei servizi che già hanno mandato alla regione che devono partire a marzo si spera che ci sia la tempista della regione che sia corrispondente a quello che era stato il deliberato questi sono due cantieri importanti sono due cantieri per disoccupate sono questi cantieri di lavoro servono a rimodulare anzi a ripristinare tutta la pavimentazione del marciapiede in via Almerico che è completamente altrata dalla radice degli alberi su via Marco Polo con la messa in sicurezza del marciapiede di collegamento e poi c'è anche una parte davanti alla chiesa del Carmine sono dei cantieri necessari importanti questo anche perché grazie alla prontezza dei miei uffici e del mio assessore del loro pubblico il vice sindaco e anche un po' le energie che metto sul territorio costantemente riusciamo ad accedere a queste possibilità non solo di dare lavoro ma di ripristinare anche quell'ambiente che è sofferente vuoi per la caducità del tempo ma anche per molte volte la malposizione di piante in posti che dovrebbero essere più meno corrispondenti di fatto noi non a caso abbiamo fatto il violamento mettendo le eugenie che sono a chiodo come piante ci hanno una radice che sviluppa in profondità e non in larghezza Lei parlava di un'opportunità lavorativa sarebbero circa 15 occupati a cantiere che vanno a sommarsi ai 60 nel complesso con i cantieri già esistenti Sì circa saranno sul territorio tutti i cantieri approvati così rimodulati e finanziati dalla regione ci saranno circa 70-80 persone di famiglie che potranno impegnare e averne un reddito fatto tutto ciò che dovevamo fare attendiamo che la regione ci approvi il progetto e ci dia il via per poter eseguire i lavori Che dovrebbe arrivare questo via? Abbiamo presentato ieri nella scadenza il via noi speriamo entro un mese di avere già l'approvazione e poi vediamo se aspetta ovviamente la finanziaria ci hanno detto dobbiamo aspettare la finanziaria regionale quindi vediamo in primavera sicuramente E nella vicina Maschali giunta comunale già al lavoro e si pensa all'estate A Maschali giunta al lavoro per la programmazione degli eventi e delle attività amministrative della 2019 ad annunciarlo è il sindaco che ad una settimana dall'ufficializzazione della nuova compagine di fatto sostituita da un solo assessore Portogallo subentrato all'uscente Cardillo traccia le linee della nuova stagione e dell'organizzazione comunale a vantaggio della città Già abbiamo iniziato a lavorare con la nuova giunta e la programmazione del 2019 comprende una serie di attività già in corso che sono quelle dell'apertura del centro sociale il parco pubblico la realizzazione di parecchie manutenzioni nelle strade comunali verranno realizzate anche dei rallentatori di velocità in molte parti del paese perché è già stato appaltato con il comando dei vigili urbani e grazie all'ufficio tecnico all'ingegnere Leotta il dottore Ferrara il geometra Torisi e la geometra Calotabiano siamo riusciti insieme a Giovanni Di Prima a migliorare quello che è il servizio dell'anettezza urbana ci saranno dei riscontri di carattere economico anche con la diminuzione dell'Atari durante il 2019 col nuovo assessore e l'assessore Paolo Verzi stiamo programmando comunque anche una serie di controlli nel territorio che favoriranno la crescita della differenziata ma siamo progettati anche per l'estate il CCR che servirà anche a migliorare la differenziata verrà consegnato tra il mese di aprile e maggio nello stesso tempo questa amministrazione sta programmando l'estate e ci sarà una programmazione da realizzare insieme ai lidi alle attività e promuovendo anche il territorio ci saranno tutta una serie di serate che verranno focalizzate soprattutto nel periodo di luglio-agosto e di attività che coinvolgeranno anche l'intero territorio fino a Puntalazzo e Mondargano è tutto ci fermiamo qui per questa edizione di Ora TG che ritorna in diretta come sempre alle 19.45 vi ricordo che potete seguirci anche attraverso il sito internet e la pagina Facebook grazie dell'attenzione a tutti buon pomeriggio vi lascio al meteo appuntamento con il meteo le previsioni per la giornata di giovedì 24 gennaio 2019 peggioramento su tutta la Sicilia precipitazioni di stabilità diffusa i mani saranno mossi le temperature nell'isola uscilleranno da 12 gradi a meno 3 a Catania 12 gradi la massima 7 la minima a